Cosa rappresenta per Nando Dalla Chiesa la famiglia? Rappresenta un'esperienza grandissima, rappresenta un flusso di affetti che passano per generazioni, di valori che si trasmettono nel tempo, rappresenta anche il grande punto di forza affettivo per affrontare la vita pubblica. E proprio appunto in riferimento a questo aspetto affettivo della famiglia che è forse l'aspetto principale, come nasce l'idea di raccontare questi aspetti affettivi della famiglia in un libro? Nasce dalla voglia di far capire che la famiglia può essere diversa da come ci viene rappresentata nel dibattito politico-ideologico che mi ha un po' infastidito in questi anni, perché viene usato in modo strumentale per fare polemiche, per proibire. Per me la famiglia è quello che ho vissuto io e io so che cos'è. E ho cercato di raccontarla pensando che sia una bella favola, nonostante sia passato attraverso momenti drammatici. E considerando il profilo dei valori passati nel confronto con la realtà di oggi, come vede il futuro? Il futuro lo costruiamo noi. Quindi io spero con questo libro di contribuire un pochino a far capire la forza che può avere una famiglia anche nel costruire una società più giusta. La ringrazio. A voi.